E' che non sono mai stata bene con nessuno. Voglio conoscerti meglio prima, sennò rovineremo tutto. E poi lo sai, forse vado a studiare in America. Non è detto. In America ci vai se vuoi. Noi due ci mettiamo insieme se lo vuoi. Alex, per favore, lasciami un po' di tempo. E' una cosa a cui ho bisogno di pensare da sola. E' un casino. Ho già capito che è un gran casino. Dai. Vabbè, io vado a casa. Ti voglio bene. Pensa bene. Ci sentiamo. Era tornato a casa sentendosi soffocare. Col presentimento che per un po' lui e Heidi non si sarebbero sentiti. Alex, inutile e triste come la birra senza alcol. Sulla curva nord ci sono i tifosi del Bologna. In quella... Dai, mi sembra un ferito. Donne, vero? E' pazzesco. Tu le cure tutti i giorni come delle piantine. Ma poi ti capitano delle sfighe così diagonali e imprevedibili che non puoi. Ma di che parliamo? Ma tutti in buona fede, capisci? Non serve assolutamente a nulla. Il peggio era che aveva la certezza di aver rovinato un gioco segreto. Ma non riusciva a capire dove avesse sbagliato. Durante la questione. drawers. Noali. Malo. Malo. Mamma. Grazie a tutti.